E' venito quest'oggi anche nella giornata di oggi all'ancorino della spiritualità e della teologia. Allora Gio, ho chiamato Lupi e poi oggi cosa che c'è da fare? Questa mattina parlava di passare Battistoni. Battistoni? Chi è Battistoni? Battistoni? Battistoni chi? Ma non è quello che ha fatto esplodere l'appartamento? Probabilmente anche il leone un giorno parlerà, ma noi non lo capiremo. Ma che viene a fare da noi? Ma sarà venuto a sapere che anche tu traffichi. Gio, ti ho detto mille volte di non parlare mai di queste cose. Scusa, scusa. Neanche in studio. Possiamo esserci il microfono? Ecco, ci siamo. Davanti. Ciao. Ciao. Io di quattro, da farti vedere, sono Paolo. Che te ne pare? Manifesto. Vorrei sapere se tu me la potevi piazzare per 5.000 da qualche parte. 5.000? Come ti viene in mente? Ma sei venuto qua per prendermi in giro, non capisco. Hai bisogno di soldi? Allora, dimmi apertamente, ho bisogno di soldi, hai un'idea per come tirare sui 5.000 euro, ma mi viene a vendere questa cosa. È esattamente così. Ma ti rendi conto? un matto da legare. Cos'è? Ma sarà venuto a sapere che anche tu traffichi. Gio, ti ho detto mille volte di non parlare mai di queste cose. Sì? Oh, ciao. Ci sarà? Sì, c'è un trasporto? Sì. Ciao. 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 Beh, mi piacciono le persone determinate. Vuoi un caffè? non sei arrabbiato? No, stupito. Forse anche divertito, però potremmo anche magari pensare una cosa. Forse potremmo pensare. Vedi questa stanza? È tutta piena di planimetrie di banca del nord Italia. Cassetti di sicurezza compresa. Se vuoi fare il grande salto? Così, così. Dai, vieni con me che ti faccio vedere. Questa è la planimetria dell'Unicredit. Se vuoi un'altra banca, questa è quella della Barclay. Quale preferisci? E se le prendo tutte e due? Il prezzo cambia. 2.500. Tutte e due? Tutte e due. Un credit. Barclay. Prendi queste due cose, dammi 2.500 e esco. Arrivederci. E dopo due giorni di silenzio, finalmente Palazzo Marino si pronuncia in merito alla questione diventata ormai un caso milanese delle targhe alterne rubate. La banda delle targhe, ricordiamo, la banca? Come si chiama la banca? Sai almeno il numero della banca? Ma guarda, ce ne sono due che mi piacciono. Una è l'Unicredit e l'altra la Barclay. Hai qualche preferenza? Beh, non capisco, dovremmo essere qui, sotto il cavo. Dunque, da qui a qui vedi l'angolo. Credo che sia di qua. Non siamo appena arrivati, ti è? Sì, ma dovrei ritornare la barca. Sì, ma dovrei ritornare la barca. Se non è, ci siamo persi. Non è messo, nel corridoio di qua. Dovremmo. Infatti, stanno bene. È da un'ora che stiamo girando. No, ma questa porta non dovrebbe essere qua. Ma questa è una parte dell'unica educa. Senti, ma perché non facciamo una rapina vecchio stile? Come Dio comanda. Senza spargimenti di sangue. No, ma penso. No, ma penso tutto ora! No, ma penso tutto ora! Alla l'unica educa. Vìv